se tra 5 minuti noi e i miei uomini non siamo usciti un locale fa una poteca anzuno con tutti i filistei cioè pure siete dentro a Napolgheria non ne ho vero per un ple sparate, sparate e che cosa vuole questo professore Resuviano? vuole che il vostro lavoro proceda in pace sta pace ma costa 30.000 lire per ogni cassa di sigarette 600.000 per ogni furtio e su ciò che ha la prostituzione un forfeo di 30 milioni al giorno si capisce e per chi ci ha presi? per la cassa del mezzogiorno e un coppio sangue l'oste quando ha mostro bandito? chi lo può momento che ho potuto tenere l'arrivo si capisce non ci ha preso che ho potuto tenere la cassa del mezzogiorno il mezzogiorno e la cassa del mezzogiorno che ho potuto tenere